Sembra proprio che Oshiman andrà a rinnovare con il Napoli fino all'anno 2026, quindi andrà con ogni probabilità, secondo quello che è riportato su internet, a farsi atti tre anni di contratto triennale, ripeto, fino al 2026, 10 milioni all'anno circa, con una clausa da circa, con una clausa da circa 150. Va bene, comunque sembra che Oshiman voglia continuare a rimanere proprio con il Napoli, la squadra celeste per eccellenza. Va bene? Per quanto riguarda invece un'altra notizia per il Napoli, sembra essere vicinissimo all'acquisto e potrebbe iniettare con un giocatore del Napoli proprio Gabby Vega o Vega. Il costo si generebbe intorno ai 35 milioni di euro per questo cento campista abbastanza noto del Celta Vigo. Quindi diciamo che anche Gabby Vega o Vega potrebbe essere effettivamente parlando un nuovo giocatore del Napoli. Intanto, ripeto, 4 cm di nuovo nel 2026, con ogni probabilità e per l'appunto Gabby Vega potrebbe essere effettivamente parlando un nuovo giocatore del Napoli. Iscrivetevi e commentateci ad andare a dove vediamo di YouTube.